Musica Scade oggi il mandato del direttore generale di area, l'azienda regionale per l'edilizia abitativa che a Sassari conta circa 2.400 alloggi, il consigliere regionale di futuro comune Antonio Piu insieme a Maria Laura Orrù dei progressisti ha presentato un'interrogazione rivolta all'assessore regionale ai lavori pubblici in merito alla nomina del DG ma anche alla situazione in cui versa la sede di Sassari che non ha una figura dirigenziale autonoma e che attualmente si trova sotto organico. Queste conseguenze ricadranno su tutti i distretti territoriali della Sardegna ma principalmente nel distretto territoriale di Sassari che nella riorganizzazione territoriale sta avendo una grossa penalizzazione perché il patrimonio immobiliare è molto degradato e la regione ma soprattutto la provincia di Sassari ha bisogno di dare risposte immediate attraverso un adeguato numero di dipendenti. Siamo sotto tantissimo perché la media nazionale è di un dipendente ogni 100 alloggi a Sassari siamo per un dipendente ogni 250 alloggi la struttura sta collassando e quindi l'assenza del direttore generale non fa prevedere niente di buono. Aria inoltre non ha più un amministratore unico dal 30 giugno scorso e il direttore generale ha assunto su di sé la direzione del servizio bilancio e programmazione costituendo di fatto una grave violazione di legge scrivono i consiglieri nel testo dell'interrogazione. Abbiamo fatto un'interrogazione con la collega dei progressisti Maria Laura Orru destinata all'assessore ai lavori pubblici della regione Sardegna proprio per cercare di fare in modo che ci si sbrighi a fare queste nomine la prima politica e quindi che siano meno litigiosi quelli della maggioranza quando devono andare a scegliere un nome e che sia un nome competente per quanto riguarda la situazione di Aria ma soprattutto la nomina di un direttore generale perché davvero immaginate solo che c'è da fare un lavoro da firmare un contratto i contratti non vengono firmati proprio per l'assenza appunto del direttore Sassari ha bisogno di avere una sua autonomia gestionale va bene l'amministratore unico va bene le gare uniche che vengono svolte a Cagliari ma noi abbiamo bisogno di personale e di dare risposte a tutti quei cittadini e a tutti quei comuni che ruotano intorno a Sassari Formarsi in Europa per poi tornare in Sardegna e costruire una scuola al passo con gli altri paesi europei in grado di garantire livelli crescenti di inclusione sociale e questa è la missione del centro provinciale per l'istruzione degli adulti CPA 5 Sassari nell'ambito del progetto europeo Erasmus Plus azione K1 aprirsi al mondo un'iniziativa alla quale hanno partecipato quattro insegnanti e la dirigente del centro Rita Cambula che dal 2017 si occupa dell'istruzione degli adulti italiani migranti sull'intero territorio provinciale che comprende oltre alla sede di Sassari Alghero, Ozzieri, Castelsardo, Valledoria, Santa Teresa di Gallura, Olbia e tre sedi carcerarie Sassari, Alghero e Nucchis in totale sono 25 i docenti su una popolazione scolastica di circa 500 allievi dai 16 anni in su composta per il 90% da migranti, profughi, rifugiati, richiedenti asilo e per il restante 10% da italiani in cerca di collocazione lavorativa i docenti che hanno preso parte del programma hanno frequentato due corsi di formazione a Faro in Portogallo e a Praga, Repubblica Ceca e un'attività di job shadowing a Barcellona i corsi sono incentrati in particolare sull'apprendimento e miglioramento delle metodologie e strategie didattiche per l'inclusione dei migranti soprattutto per quanto riguarda l'insegnamento della lingua italiana e il conseguimento del livello B1 indispensabile per la domanda di cittadinanza Si è chiusa ieri la prima edizione di Liquida al Festival di letteratura giornalistica tre giorni all'ombra della suggestiva Basilica di Saccargia che ha fatto da cornici al palco sul quale si sono alternate personalità del mondo del giornalismo e dell'informazione da Sergio Rizzo, prestigiosa firma del Corriere della Sera Floriana Bulfon, giornalista sottoscorta fino a Luca Telese, nota firma della carta stampata e volto di La Sette Da tre giorni di incontri ha visto diversi temi dibattuti all'interno dei talk delle nuove frontiere dell'informazione al ruolo delle donne nel giornalismo così come nella politica e nei media in generale Flavia Perina, prima donna in Italia dirige in un quotidiano attraverso aneddoti del proprio percorso intervistata al giornalista Andrea Tramonte ha analizzato il ruolo femminile nelle redazioni Serena Marchi, giornalista e autrice di Pink Tank Donne al potere, potere alle donne è stata protagonista del talk moderato al giornalista Adriano Porquedo dedicato alla leadership femminile in Italia Le riflessioni partono soprattutto dal fatto che dietro ad ogni carica dietro ad ogni grande nome c'è sempre una storia c'è sempre un percorso con le proprie fatiche con le proprie rinunce e una delle cose che ne esce è che in ogni caso sui grandi temi in questo caso il tema delle donne le donne stesse sanno fare gruppo e le donne stesse sanno cosa vogliono Il festival Liquida è proseguito nella giornata di domenica con altri incontri e altri protagonisti con una chiusura tesissima del monologo di Saverio Tommasi noto blogger e giornalista di Fanpage Perché se tu racconti questo mediaticamente e ti fermi a questo stai sputando in faccia ad almeno una generazione e mezzo Un festival che mancava Liquida ha avuto una partenza sprint con nomi autorevoli e temi di grande attualità un nuovo appuntamento per riflettere sul modo di informare e di informarsi per trovare la bussola in una geografia di notizie sempre più liquide Emozioni en plein air nella 22esima edizione di Giro vagando Il festival internazionale di arte in strada ha concluso ieri il suo intenso programma dedicando l'ultima giornata a laboratori per bimbi e adulti concerti e la performance aerea del Teatro Anvol Come ogni anno la rassegna organizzata da Puccio Savioli e Michelle Kramer fa interagire di spazi cittadini con artisti e pubblico inscenando storie dai registri più variegati Sabato sera due eventi in antitesi timbrica hanno animato le piazze sassaresi Il primo, protagonisti dell'armoniciclo e gli afrojembe è stato un incontro di musica e movimento condito da trascinanti ritmi percussivi La macchina armonica costruita con materiali di recupero crea un battito vitale che coinvolge l'audience a un livello di partecipazione immediata e profonda Diverso il caso di Domino un spettacolo del Teatro Nucleo che in Piazza d'Italia cita alcune celebri distopie letterarie da Orwell a Margaret Atwood drammatizzando il destino di tre uomini e una donna selezionati per un progetto dai tratti ambigui La dittatura incombente nascosta dalla facciata democratica assorbe i quattro in una scalata sociale che man mano li depriverà del proprio status umano Vicenda cupa, illuminata a sprazzi dal valore salvifico della poesia Domino registra le paure dell'Occidente insidiato da razzismi e sempre più accentuate diseguaglianze sociali Che i tempi non siano certo allegri per la cultura compresa quella sassarese lo si capisce anche dal taglio di qualsiasi risorsa comunicato dagli organizzatori del festival a favore di girovagando da parte dell'amministrazione comunale Campus Grazie a tutti Ennesima vittoria casalinga degli punti la terza consecutiva in partiti ufficiali la squadra di mister Cosimo Salis oggi ha superato il portorottondo di 1-0 una partita giocata sotto un solo estivo davanti a una buona affluenza di pubblico il gol vincente è stato siglato da Federico Altea che al quindicesimo minuto ha realizzato un colpo di testa a uno splendido cross di Del Rio Altea con il gol di oggi ha siglato tre reti in campionato regalando le due vittorie casalinghe vinte sotto lo stesso risultato di 1-0 al 33esimo un tiro della distanza di Del Rio è impegnato il portiere Melis da quel momento il portorottondo si è portato in avanti alla ricerca del pareggio e al 48esimo Saggia faceva partire un tiro al volo da 25 metri che colpiva il palo interno e il pallone danzava sulla linea F di porta senza entrare in rette nella ripresa al sesto minuto Del Rio aveva la palla del no-out il giocatore sassarese si volava da solo verso la porta di Melis ma quest'ultimo iprotizzava l'avversario e bloccava il tiro in uscita il resto della ripresa non ha regalato altre emozioni da gol la partita è stata controllata dalla difesa degli punti ora gli punti si trova seconda in classifica ad un punto dalla vetta si è conclusa un'edizione del Sardegna Jumping Tour che ha compiuto un deciso salto avanti sotto il profilo tecnico-organizzativo domenica la giornata finale di una 10 che ha animato con 170 binomi il rinnovato campo gara di Tancareggia a Basanta e ha messo in palio grazie alla regione Sardegna ben 103 mila euro divisi nei due concursi nazionali organizzato da Agri, Ancad e Fise Sardegna se il primo gran premio a due manche C145 e C150 è stato vinto dall'olipionico Gianni Govoni che si è giudicato anche il secondo posto domenica rivincita per un altro cavaliere azzurro prurimedagliato alla Coppa delle Nazioni Natale Ghiudani in Sela d'Attini ha fatto un percorso netto di 52 secondi alle premiazioni era presente l'assessore all'agricoltura Gabriella Murgia il commissario straordinario Agri Raffaele Cherchi e il presidente della Fise Sardegna Stefano Meloni il Sardegna Jumping Tour è stato abbinato al 57esimo premio regionale allevamento Mare e diving per una prima volta da replicare il primo festival che come recita il claim è dedicato al paesaggio marino nei suoi aspetti più profondi ha concluso ieri su numero zero all'Asinara organizzato dalla Federazione Italiana delle Attività Subacque e la Regione Sardegna il Parco Nazionale e l'area marina protetta il festival ha raccontato gli aspetti più profondi del mare valorizzando un territorio spesso considerato in modo settoriale non solo promozione dell'ambiente ma anche marketing a favore di una risorsa straordinaria messa in luce dall'esperienza totalizzante del diving cultura del mare quindi e fruizione di luoghi poco frequentati dal turismo all'interno di un programma che ha riservato anche momenti di formazione per addetti ai lavori e appuntamenti dedicati alle unicità del territorio nelle intenzioni degli ideatori l'obiettivo, sottolineato da Gianni Sole presidente di ConfCommercio Nord Sardegna di destagionalizzare la presenza turistica Marco Lerma, vicepresidente della Federazione Italiana Attività Subacque insiste sulla necessità di un appuntamento che valorizza e restituisce valore alle aree protette specie a un tesoro come la Sinara riuscita l'ambizione già nei programmi di Massimo Coa ideatore dell'evento di sfatare il mito della dispendiosità delle immersioni nell'isola resta sempre aperto l'appello anche a Festival Finito di Gianni Russo presidente del consorzio turistico Golfo della Sinara che rivolgendosi alle istituzioni a partire dalla rete metropolitana di Sassari auspica un supporto del mondo economico affinché il Festival diventi nei prossimi anni un appuntamento fisso L'ultima domenica di settembre ha salutato la festa di fine estate degli sport equatici alla Stalla nella Baia di Mugoni ad Alghero un'occasione per vivere il mare in un clima decisamente piacevole prima dell'arrivo dell'autunno ma con il pensiero già la prossima stagione estiva è stata infatti presentata ufficialmente la neonata associazione sportiva ASD Wind Foiling Center di Torre Alfonso e Francesca Segenzi che in una sola giornata ha registrato quasi 30 iscrizioni al raduno appassionati di tutti gli sport equatici dai windsurf al sup fino all'ultima novità assoluta il Wind Foil un sistema innovativo che consente di volare sull'acqua spinti dal vento grazie a una speciale deriva che solleva la tavola sopra il livello del mare eliminando qualsiasi attrito con l'acqua e quindi aumentando la velocità fino a un massimo di 50 nodi uno sport rivoluzionario che sta convertendo molti surfisti al battesimo della nuova ASD Wind Foiling hanno partecipato anche le ASD di Colucia con il suo patron Stefano Pisciotto e quella di Valle d'Oria di Antonio Egris l'appuntamento è per il prossimo maggio sempre alla stalla nella Baia di Mugoni Grazie a tutti Grazie a tutti